Siamo qui a Ginevra per il tredicesimo congresso delle Camere di Commercio Mondiale. Tutte le Camere di Commercio del mondo si ritrovano in questi giorni qui a Ginevra e noi abbiamo voluto portare anche un pezzo di Torino con la Camera di Commercio di Torino, ma non solo, ma anche con le nostre aziende, in particolare il settore del food, le nostre eccellenze alimentari che con dei B2B che abbiamo organizzato incontreranno dei potenziali clienti e buyer qui in Svintra che sono arrivati a questo importante evento.